Secondo me su questo il sindaco Raggi è stata già chiara e poi ci saranno altre decisioni che andranno prese nei prossimi mesi. È chiaro che per me le Olimpiadi, vedendo le condizioni sia del bilancio di Roma, sia della situazione rifiuti, della situazione trasporti, le Olimpiadi non sono una priorità, l'abbiamo sempre detto.